Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale Coltiva Mariuane in casa, arrestato un giovane di Saltara Presentati i conti di Aset Spa Utili a 2 milioni e mezzo di euro Avanti con la fusione con Aset Holding La piaga dei furti, tra paura e rassegnazione C'è il cane che lui fa d'allarme Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Ben ritrovati al nostro appuntamento con il telegiornale Cominciamo subito dalla cronaca I carabinieri di Saltara hanno arrestato un giovane di 20 anni Del posto che coltivava, secondo l'accusa, marijuana in casa I carabinieri infatti hanno trovato una serra ed un impianto di essicazione Vediamo Aveva allestito una vera e propria serra artigianale Per produrre in proprio della cannabis indica A finire nei guai è stato un giovane ventenne Già noto alle forze dell'ordine Residente a Lucrezia e da poco trasferito a Fano Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono iniziate Dopo aver sorpreso alcuni ragazzi con dosi di marijuana Che avevano fatto trappelare dell'esistenza in zona Fano Di un ragazzo che aveva allestito in casa una serra E un impianto di essicazione di marijuana Poi dai servizi di appostamento e dagli accertamenti svolti I sospetti sono ricaduti proprio sul ventenne Così all'alba i militari di Saltara insieme ai colleghi di Fano Hanno deciso di fare eruzione I carabinieri hanno rinvenuto alcune piante di cannabis già tagliate Apparecchiature, lampade a raggio ultravioletti a led Ventilatori utili a illuminare, riscaldare E successivamente a essiccare le piante Inoltre, sopra un mobiletto della camera da letto Sono stati trovati 45 grammi di marijuana pronta per essere venduta Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato Per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Il giudice lo ha condannato a sei mesi di reclusione 1200 euro di molta La pena è stata sospesa e il ragazzo rimesso in libertà Adesso la piega dei furti Spesso quando si parla di ladri Questi sono uccelli di bosco E difficilmente si riesce a catturarli Quando questo avviene però c'è la beffa Che al 90% vengono rilasciati Come è successo qualche giorno fa Noi siamo andati oggi a sentire in giro per le strade Che cosa ne pensa la gente Sì, sì perché adesso si vive sempre un pochino con la paura Però certo adesso piano piano anche noi stiamo iniziando a conviverci L'ondata di furti di certo non fa dormire sonni tranquilli Tornare a casa e trovarla devastata dai ladri È uno shock difficilmente superabile Subire un furto non provoca solo danni materiali Ma anche un duro contraccolpo psicologico Perché viene violata la privacy Si percepisce un'intrusione in casa propria Considerate il rifugio più intimo e personale Questo a volte produce insicurezza e paura per la propria incolumità E sorge il timore non solo che possano entrare anche quando si è già dentro Ma perfino di poter ricevere un'aggressione Dai dati di un sondaggio condotto da Sigma Consulting Risulta che la situazione più temuta dei marchigiani È proprio quella dei furti in casa Seguono il degrado urbano come terreno fertile dove può crescere la criminalità Le aggressioni personali per strada, le truffe e gli scippi Non tutti però sono d'accordo In che modo vi tutelate? Niente, se vengono pazienza Tanto non c'è niente, semmai gli lasciano qualcosa spero No, io non ho un sistema d'allarme Nel senso che non ho una casa neanche così appetibile dal punto di vista dei ladri Però non si può mai sapere insomma in generale E non ho neanche così tanta paura Nel senso che poi bisogna avere anche un atteggiamento nei confronti della vita Anche abbastanza rilassato Per coloro che invece ritengono la sicurezza un problema La causa principale emersa dal sondaggio è la presenza di extracomunitari e clandestini Non so, i ladri sono sempre esistiti Anche prima che arrivassero Adesso si dà la colpa soprattutto agli extracomunitari I rom e via di sopra I ladri c'erano anche prima Adesso forse se ne saranno di più Ci vorrei che non arrivassero più da giù Dalla Sicilia Che ne arrivano tanti, tanti Quindi questo secondo lei può influire? E' questo, è questo Devono fermarli Se no qui andiamo a male Ma si sente più sicura in questo modo? Sì, sì C'ho il cane che lui fa d'allarme Adesso i fanesi cominciano a sparire Ci sono tutti gli altri per cui Lunedì il sindacato della polizia ha denunciato la carenza di uomini e mezzi Che ad oggi secondo il segretario nazionale Gianni Tonelli Non sono in grado di garantire appieno la sicurezza dei cittadini A Fano inoltre c'è una sola volante Ha detto Tonelli Che copre le 24 ore giornaliere Che a volte salta al turno di notte L'attuale organico inoltre è composto da 43 agenti Mentre fino a pochi anni fa erano almeno 10 o 15 in più A volte poi malviventi bloccati dalle forze dell'ordine Vengono rilasciati poco dopo Come è successo a lunedì in zona Falcineto Dove una banda è stata intercettata a bordo di un Audi A6 I carabinieri l'hanno inseguita Ma i componenti si sono dati alla fuga a piedi per i campi I militari però sono riusciti a fermare l'uomo Che era alla guida dell'auto Lo hanno denunciato per porto illegale di armi E rimesso in libertà Questo è il problema che non dovrebbero lasciarli E questo è il problema Però purtroppo è questa gente che viene qua Che deve mangiare, che deve... come fa a vivere? Lei ha installato in casa un impianto d'allarme, un impianto antifurto? No Ha sentito che in questi giorni stanno mettendo segno di furti E purtroppo insomma vengono anche rilasciati subito i malviventi Che cosa ne pensa? A me che cambiano discorsi E manca un po' la sicurezza All'anima Sì E' preoccupato? Se ci avessi miliardi sì Sul cancio Ma come difendersi quando la propria dimora è disabitata? Una soluzione efficace è quella di installare un antifurto In commercio esiste una vasta gamma di sistemi di allarme E il costo può andare dai 1000 ai 3000 euro Ma il prezzo varia a seconda della metratura dell'abitazione E se si sceglie di installarlo solo nel perimetro Oppure optare anche per i sensori volumetrici e quindi all'interno E' fondamentale inoltre seguire alcuni consigli Tra questi quello di potenziare l'illuminazione esterna Perché i ladri preferiscono accedere dalle zone meno in vista e meno illuminate E quindi spesso dal retro dello stabile Altri suggerimenti sono quelli di non mettere targhe identificative come portachiavi E di non tenere oggetti preziosi o soldi contanti nelle camere da letto Perché sono le prime stanze prese di mira dai ladri Segnalate inoltre qualsiasi persona o vettura sospetta alle forze dell'ordine E' un bilancio positivo quello di Aset Spa Che ha chiuso il 2015 con un utile di 2 milioni e 600 mila euro Per i risultati ottenuti l'azienda è considerata tra le migliori 25 aziende in tutta Italia Aset Spa è un'azienda valida che rende e che lavora bene E' soddisfatta la presidente Lucia Capodaglie che ha presentato alla stampa il bilancio 2015 Approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione Il documento è stato chiuso con un fatturato che ha toccato 35 milioni e 600 mila euro Con un incremento di poco superiore all'1% rispetto al 2014 Nonostante un calo medio delle bollette di rifiuti che a Fano è stato del 2% L'utile al netto delle imposte è salito a 2 milioni e 600 mila euro Con un incremento del 68,6% rispetto all'anno precedente I nuovi investimenti saranno sia per il sistema idrico integrato Quindi sulla depurazione, sull'ampliamento delle reti Già avviati gli investimenti per quanto riguarda la metanizzazione attraverso la nostra controllata AS E tutti gli investimenti relativi all'ammodernamento del parco mezzi igieno ambientale E ulteriori investimenti sulla discarica di Monteschiantello Chiaramente nel futuro con il nuovo piano di aggregazione e quindi di fusione con la patrimoniale Contiamo di introdurre anche quello degli investimenti sugli impianti Si tratta di risultati al di sopra di ogni aspettativa, ha commentato Capodaglie Raggiunti anche con l'accantonamento record di 350 mila euro Per il fondo anticrisi a sostegno delle famiglie disagiate E secondo gli analisti Plimsoll, Aset Spa è tra le 25 aziende più redditizie Nel settore della raccolta di rifiuti solidi non pericolosi I dati si riferiscono ad uno studio eseguito su 616 aziende del settore Ottimi risultati sono stati raggiunti anche per la raccolta differenziata Che ha raggiunto quasi 73% Fano infatti è stato premiato come primo comune italiano Nella fascia tra 50 e 100 mila abitanti Con la migliore prestazione in termini di raccolta differenziata Di avvio al riciclo e di risparmio in emissioni di CO2 equivalente Per quanto riguarda la produttività di Aset Spa invece È stato aumentato il rendimento del fattore umano Nonostante la riduzione del personale Sono calati i costi delle consulenze E migliorate le attività legate all'energia Grazie ai nuovi sistemi e all'aggiornamento degli impianti Sono aumentati inoltre i conferimenti in discarica Ora però l'attenzione è tutta focalizzata sulla fusione con Aset Holding Infatti dopo l'esame del bilancio da parte dell'Assemblea dei Comuni Soci Si passerà al piano di fusione Proprio dal risultato di quest'anno, di questo esercizio Abbiamo la consapevolezza che 869 mila euro Sarebbero stati a disposizione degli enti comunali Come utile dell'esercizio se solo avessimo avuto in corpo le reti La Regione Marche rilancia la battaglia per far rientrare in Italia La statua dell'atleta vitorioso di Lisippo Ripescata a largo di Fano nel 1964 E acquistata illegalmente, secondo la magistratura di Pesaro Dal Museo Ghetti di Malibu E tuttora esposta negli Stati Uniti Dopo che la Cassazione ha annullato per un vizio di forma l'ordinanza Con cui il GIP di Pesaro nel 2012 aveva ordinato la confisca del bronzo In quanto bene indisponibile dello Stato italiano Oggi è stata approvata in Assemblea regionale Con un voto unanime, una mozione del consigliere Boris Rapp E del vicepresidente Renato Claudio Minardi Con lo scopo di incentivare azioni per il rimpatrio dell'antica statua fanese E per approfondire un attimo E cercare di capire come mai questa fuga subito Questa ripartenza, sprint da parte della regione Marche Abbiamo con noi il vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi Buonasera Minardi Buonasera direttore Allora dunque, certo che riavere la statua dell'Isippo Sarebbe un bel colpaccio per la nostra città Che cosa e soprattutto perché avete deciso di riproporre questa mozione? Beh, abbiamo deciso insieme a Boris Rappa Il collega Boris Rappa che è il primo firmatario della mozione Di riportare l'attenzione sul stato dell'Isippo A livello del Consiglio regionale Bisogna continuare questa battaglia Credo che sia opportuno portarla avanti con estrema convinzione E con estrema determinazione Il fatto che la mozione sia stata approvata Alla unanimità da parte di tutto il Consiglio regionale Dimostra come ci sia attenzione rispetto a questa importante opera Che abbiamo tutto l'interesse Sia dal punto di vista culturale Che dal punto di vista turistico Di riportare nella città di Fano È chiaro che l'opera dell'Isippo Rappresenta una grande opportunità Sia dal punto di vista culturale Ma diventa anche una grande occasione Per promuovere non solo il turismo della città di Fano Ma il turismo di tutta la regione Quindi bisogna rialzare il livello dell'attenzione Continuare la battaglia E fare di tutto perché tutti i livelli istituzionali A tutti i livelli facendo sistema Lavorino verso lo stesso obiettivo Grazie a Renato Claudio Minardi Sulle mura romane del Pincio di Fano Nelle ultime settimane sono comparse nuove scritte Fate con le bombolette spray da alcuni ragazzini Questa mattina l'associazione Regresso Arti Ha eseguito un intervento di ripulitura Che è durato più di 4 ore Abbiamo ripulito le mura Ieri ci siamo incontrati con il soprintendente di Belle Arti Con cui abbiamo concordato alla tecnica Questa mattina abbiamo iniziato a pulire Poi il soprintendente è venuto a vedere Insomma come procedeva al lavoro E visto che andava bene Abbiamo proseguito e abbiamo finito In che zona esattamente? Allora dall'inizio Diciamo dalla porta della Mandria Fino verso il Pincio E poi c'era una scritta anche Poco più giù Una scritta rossa Diciamo le mura romane Dalla parte interna Sarete retribuiti per questo lavoro? Non lo so perché Di solito il comune Quando sa più o meno qual è il bilancio Se c'è qualche avanzo riesce a darci qualcosa Per i vari lavori che facciamo durante l'anno E altrimenti ci sarebbe in ballo L'altro discorso sulla cittadinanza attiva Solo che ancora non abbiamo avuto risposte Quindi potrebbe anche questo Rientrare in quel tipo di operazione Che noi abbiamo pensato Per la pulizia del San Lazzaro Però ancora non è stato definito niente Quindi ricordiamo per avere insomma Una sede, un appoggio in cambio Sì, diciamo un baratto amministrativo Invece dei soldi comuni A volte danno dei servizi Oppure dei beni in uso Domani sera alle 21 L'amministrazione comunale di Fano Incontrerà i residenti di Bellocchi Al circolo anziani di via seconda strada Per discutere i problemi della frazione Mentre domani mattina inizieranno I lavori di rifiorimento Delle scogliere soffolte A Sassonia di Fano Giovedì 7 aprile Costa Crociere Presenterà alle 18 Al centro per l'impiego di Pesaro I tre nuovi corsi per cuochi di bordo Tecnici del suono, luci, audio, dj E addetti al ricevimento all'interno delle navi L'occupazione sarà garantita Per almeno il 60% dei partecipanti I corsi, completamente gratuiti Sono rivolti a 45 disoccupati e inoccupati Iscritti ai centri per l'impiego di riferimento Con requisiti diversi in base al profilo Ad oggi sono stati promossi a Pesaro 16 corsi di formazione Per un totale di 308 allievi formati Di cui l'89% sono stati assunti Maggiori informazioni le potete trovare Nel nostro sito internet Occhio alla notizia.it E l'11 e 12 giugno prossimi All'interno della manifestazione Sapori e motori Si terrà aria Che è un evento Completamente dedicato Alla casa In particolare all'arredo Al recupero All'innovazione tecnologica Nuove frontiere dell'architettura Con stand e seminari Dedicati Il servizio di Lino Balestra L'amore degli italiani per il mattone È un dato di fatto Dal dopoguerra in poi La casa rappresenta il bene rifugio Più agoniato Ed infatti in Italia Ben il 68,7% degli italiani Risulta essere proprietario di casa Contro il 60% del resto dell'eurozona Ma come deve essere la casa ideale? Quali sono le più recenti novità del settore In tema di ristrutturazione Fonti rinnovabili Arredamento e progettazione Per entrare in contatto con l'universo casa A 360 gradi A Fano Ci sarà dall'11 al 12 giugno Aria Un contenitore a cielo aperto Dove sono presenti elementi di cultura Ricerca ed eccellenze territoriali A disposizione di cittadini Famiglie, coppie giovani Proprietari di abitazioni e nonna Si tratta di Aria La casa consapevole E si tratterà di un evento In cui saranno presenti espositori Riguardanti tutto il mondo della casa Quindi dal complemento d'arredo Alle associazioni di categoria Alla ditta che fa costruzioni in muratura Più tradizionali A quelle che fanno costruzioni in paglia In legno Tutto ciò che riguarda il mondo casa Un evento rivolto anche a chi Semplicemente si sta guardando intorno In vista di scelte future Ma che grazie ad Aria può entrare in contatto Con i settori di interesse specifico Raggruppati in questo spazio Ma anche informarsi ed approfondire concetti nuovi Grazie ai seminari e workshop organizzati In occasione dell'evento organizzeremo delle conferenze Dei workshop, dei seminari Che saranno sia durante il periodo dell'evento Quindi l'11 e il 12 giugno Ma anche durante l'anno Cioè Aria è un progetto a 360 gradi Che quindi riguarda non soltanto il periodo Della fiera, dell'esposizione Ma anche poi successivamente Cioè proprio l'idea di creare un network di lungo periodo Come prima edizione questo nuovo evento serviva un contenitore già conosciuto ed apprezzato Che gli facesse da lancio E quale miglior occasione per la prossima edizione di Sapori e Motori Che ogni anno presenta nuovi spunti di novità Come anche quest'anno La novità sicuramente più importante è che abbiamo spostato la data E il periodo praticamente dal mese di maggio Andiamo al mese di giugno Quando già le scuole sono terminate E ci saranno anche moltissime, tantissime novità all'interno della manifestazione Sicuramente la più importante Al quale che ci tengo di più È la parte dei Sapori Quest'anno ci siamo agganciati a un'organizzazione a livello nazionale Che si chiama appunto Track Food Festival Dove avremo qua i migliori mezzi appunto Perché il food sarà solo su gomma I migliori mezzi d'Italia appunto Che preparano questi cibi da strada E domani sera, mercoledì Alle ore 21 come vedete dal cartello alle mie spalle Eccolo qua, l'appuntamento con Primo Cittadino Il sindaco di Fano Massimo Serri risponderà alle vostre domande in diretta Alle ore 21 per intervenire 0721 86 14 33 Oppure potete inviarci un sms oppure whatsapp al 338 49 68 250 Chiudiamo con un filmato che ci ha inviato un nostro reporter di strada Molto bello suggestivo in questi giorni Che stranamente sono caratterizzati dalla nebbia È stato girato nel pomeriggio Vedete siamo in collina La nebbia che dal mare avvolge le prime colline appunto nell'immediato entroterra E con questa immagine suggestiva ci salutiamo qui Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia Arrivederci Grazie per aver guardato il nostro corso